Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente, autorità presenti, studentesse, studenti e docenti, in rappresentanza degli istituti vincitori del concorso 10 febbraio, che quest'anno ha avuto come titolo Un mondo e un passato, storie dei luoghi d'origine degli esuli Giuliano Fiumano Dalmati. Oggi noi qui, e la comunità nazionale tutta, onoriamo la memoria della tragedia di migliaia di italiani perseguitati, uccisi, gettati nelle foibe, e delle centinaia di migliaia di italiani costretti ad abbandonare le terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Ricordiamo, per radicare nel presente, è quello che hanno colto i lavori dei ragazzi premiati oggi. Quel mondo e quel passato non sono un altrove, sono qui e ora, sono cicatrici di fronte a cui non chiudere gli occhi, sono storie senza le quali non saremmo ciò che siamo. E finalmente sono storia condivisa. Come ha riconosciuto la Commissione Storico-Culturale Italo-Slovena, l'impulso primo della repressione che portò a quelle atrocità partì da un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale e ideologica diffusa nei quadri partigiani. Dobbiamo ricordare le stragi e le tragedie imputabili ad una ideologia totalitaria, quella del comunismo titino, che si è sostituita alla centralità della persona, allo Stato di diritto, alla democrazia, per immunizzarci contro i rischi di un suo riemergere, oggi di fronte al ritorno dell'odio ideologico e del tentativo di schiacciare l'altro, rigurgiti che ricompaiono persino in Europa. Non bisogna mai arretrare dalla responsabilità della memoria, non bisogna mai perdere di vista all'autentico baricentro che regge la civiltà europea ed occidentale, il rispetto della persona umana, il suo valore intangibile. Desidero a questo punto esprimere le mie congratulazioni alle scuole vincitrici della quattordicesima edizione del concorso, ma anche rivolgere un caloroso saluto a tutti gli studenti che hanno partecipato. E ringrazio sentitamente le associazioni degli esuli, istriani, fiumani e dalmati che promuovono il concorso 10 febbraio, insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che ci danno un aiuto decisivo a tenere vivo il ricordo, che è esattamente la missione profonda di un sistema scolastico che sia davvero l'altezza di sé, della propria missione educativa, del proprio incarnare un orizzonte di valori, oltre che di saperi. Grazie a tutti. Sezione scuola primaria. Prima classificata, primo circolo didattico di Ischia. Titolo dell'elaborato Ricordando Pola. Ritirano la targa il dirigente scolastico Rosaria Scotti e gli alunni Laura Castagna e Pietro Grande. Motivazione. Stimolati da un incontro intervista con un esule istriano, gli alunni esprimono intense emozioni, attraverso disegni e brevi riflessioni, in cui paragonano con sensibilità la propria quotidianità con il racconto del testimone, che alla loro età ha vissuto l'esodo da Pola. Di grande valore anche la mappatura, effettuata da docenti e alunni di tanti altri esuli che si sono inseriti, con successo, nel tessuto sociale cittadino. Seconda classificata, scuola primaria Collodi Treviso. Titolo dell'elaborato Anch'io ero come voi. Ritirano la targa la docente Anna Cremona e gli alunni Alessio Svalutoferro e Isabel Sapia. Motivazione. Attraverso la testimonianza di una nonna esule, la classe ricostruisce le vicende di fiume durante la Seconda Guerra Mondiale, dai bombardamenti all'esodo, analizzando le ragioni che hanno determinato la partenza per giungere all'inserimento nel nuovo contesto di arrivo. Attraverso un efficace utilizzo delle linee guida per la didattica della frontiera adriatica, è stata contestualizzata adeguatamente una pagina di vita familiare nella macrostoria. Grazie. Grazie. Sezione scuola secondaria di primo grado. Primo classificato IC1 San Bonifacio Bonturi Verona. Titolo dell'elaborato Storie oltre i confini. Ritirano la targa la docente Susanna Marinello e gli studenti Emma Tessari e Vincenzo Caniglia. Motivazione. Progetto multimediale, ampio e articolato, che dimostra conoscenza dell'argomento e profonda empatia con gli esuli per il loro tragico vissuto. Il QR code consente di accedere ad un sito internet dai contenuti approfonditi e ben organizzati, in cui si distinguono varie sezioni. La sezione storica differenzia in maniera appropriata la scansione cronologica e geografica degli eventi, mentre la sezione delle testimonianze lascia spazio a interpretazioni intimistiche che, attraverso disegni e brevi narrazioni, originano riflessioni molto mature. Secondo classificato. Istituto comprensivo Ugo Betti, fermo. Titolo dell'elaborato Iacta estalea, l'essenziale es invisible pour les jeux. Ritirano la targa il dirigente scolastico Anna Maria Isidori e gli studenti Alessandro Angelici e Laura Di Sante. Motivazione. Lavoro di ricerca e fortemente inclusivo, sviluppato in maniera multimediale, cogliendo spunti e riferimenti anche dal centenario della nascita di Italo Calvino, per giungere al recupero delle fiabbe estriane, fiumane e dalmate. È un progetto che ha coinvolto e appassionato gli studenti alla scoperta dei riferimenti culturali dei propri coetanei Giuliano Dalmati al tempo dell'Esodo. Sezione scuola secondaria di secondo grado. Primo classificato. Liceo scientifico De Ruggeri Massafra Taranto. Titolo dell'elaborato Il massacro dimenticato. Ritirano la targa la docente Pasqua Lorè e gli studenti Fra Virizio Minardi e Serena Quarato. Motivazione. Lavoro di ampia portata ed articolato su vari livelli e con l'utilizzo di software differenziati e appropriati. La ricostruzione storica è corroborata da una selezione di adeguate testimonianze e da un corretto utilizzo di fonti documentaristiche che confluiscono in un videoclip ben impostato un powerpoint sintetico ma esaustivo e un testo scritto da cui emergono riflessioni e considerazioni personali. Secondo classificato. Liceo classico Jacopo Stellini Udine. Titolo dell'elaborato Radici resilienti. Storie di origini. Ritirano la targa la docente Ada Barbara Pierotti e la studentessa Emma Vittoria Melchior. Motivazione. Partendo dalla storia familiare emergono aspetti originali che vengono bene contestualizzati nella narrazione dell'esido Giuliano Dalmata. Con fedele ricostruzione storica viene rappresentato il travagliato percorso di fuga dall'Istria e il passaggio attraverso i campi profughi, elementi che fanno da cornice a una struggente vicenda personale.